In mezzo all'area Cettoni, ancora Floccari, Valdes, palla sul destro! Valdes! 1-0 a davanti! Che bella azione, che bel gol! Devo dire che un'apertura bellissima di Guarente per Floccari che è rientrato, ha visto Valdes a rimorchio e poi è stato molto bravo e freddo a girare questa palla sul secondo palo. Quindi purtroppo per Coppola non c'era niente da fare. Secondo gol consecutivo di Valdes, aveva aperto il match contro la Lazio una settimana fa. Adesso è arrivato il gol dell'1-0 anche contro l'Udinese. Qui è stato molto bravo Floccari a entrare in area, a guardare Valdes, che a rimorchio l'ha girata sul secondo palo. Bellissimo gol. Può soltanto restare a guardare Andanovic, ancora l'azione con la telecamera dal basso, il destro a girare sul palo più lontano di Jaime Valdes. Il pacarito, il passerotto colpisce ancora a distanza di sette giorni. Un altro gol per portare, per riportare in vantaggio.